Allo stadio Andrea Gigio Torelli di Scandiano è andata in scena la prima giornata del girone A tra Milan e Parma che debutano ufficialmente nella prima edizione del trofeo Villan Vecchi. Il Parma che schiera un 4-3-3 con, da non sottovalutare, il giovane Tartaglia sulla sinistra e Lamantia e Lupo in attacco. Stesso modulo per la formazione di Simone Fusaro che schiera il tridente d'attacco composto da Mutuo Tagliente e Parafioriti in difesa. Ha confermato il capitano Chiesa, i due terzini Fiorasi e Parisi. Giallo-blu che partono fortissimo con un pallone in profondità per il numero 3 Antonelli che a sua volta si appoggia al numero 11 Tagliente che tenta di sfondare sulla fascia sinistra, mette in mezzo per cercare Parafioriti, pallone che non arriva a destinazione. L'azione più pericolosa del primo tempo è del Milan sulla fascia d'Essar con Plazzotta che punta Antonelli. Riesce a scartarlo molto bene e a mettere questo cross steso per Zaramella che non riesce a segnare il gol del 1-0. Uno strepitoso Giardino ad opporsi ben due volte. Poi è non gli a rimettere in mezzo questo pallone allontanato prontamente da Chiesa ed infine Tartaglia calcia male. Seconda frazione di gioco che si apre con il botto. Prima una conclusione da centrocampo di Pandolfi. Abbastanza velletaria, facile per il portiere Giardino. Ma al sesto minuto arriva il gol del vantaggio. Valla messa in mezzo dalle parti di Lamantia. Sbaglia l'uscita Giardino, il numero 8, che riesce a trovare il gol del vantaggio rosso-nero. Parma che prova a costruire dal basso. Riesca un po' troppo il portiere Giardino che regala il pallone a plazzotta. Rimedia subito il portiere crociato con una grande parata. Qualche secondo più avanti a River, doppio del Milan. Contropiede perfetto con Tartaglia che riesce a involarsi verso la porta e a segnare il gol del 2-0. Che mette un punto esclamativo in questa partita. Milan perciò che conquista la prima vittoria del trofeo William Previdi in questo girone A. Battendo il Parma 2-0 grazie alle reti di Tartaglia e di Lamantia.